Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su COD Mobile pronti per un'altra partitozza e siamo in un match tutti contro tutti Allora, è da un po' che non ci gioco ragazzi, adesso vediamo cosa ne viene fuori Oh, di fronte a noi, nemico, nemico, nemico Carichiamo l'arma, ce la facciamo, attenzione Oh, bella ciccio All'improvviso sei arrivato tu T'ho messo a tappeto, bello Attenzione, dietro di noi, dietro di noi Oh, 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 oh Qui spara forte questo, eh Spara forte Ok, ma anche noi non siamo da meno Prendiamo le spalle questo, ma siamo in guerra Tutto vale E non ci facciamo scrupoli No, per un pelo, per un pelo, per un pelo Ok, ok Chi è che t'ha sparato? Chi è che stava sparando a te? Attenzione Da dietro, da dietro, eccolo, da dietro, da dietro Ah, c'hai le armi fighe tu, eh L'abbiamo fatta Eccolo dall'alto Lo stavo guardando mentre sparavo quello in basso Ed era lì, bello pronto Ad aspettarci No, dai Stavo per lanciare il drone Ci riproviamo, bello Non c'è problema Drone lanciato Aia, aia Questo fa male Questo fa male Facciamo la cassa Attenzione che sta arrivando una cassa sorpresa Uccisione Oh, che figo la torretta La piazziamo qua La piazziamo qua Così camperiamo un attimino, ragazzi Intanto utilizziamo una bella arma tosta Chi è che sta sparando? No, 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 no Non l'ho visto Guardatelo, guardatelo Abbiamo già visto che siamo più operativi se siamo in movimento, ragazzi Se ci fermiamo a camperare è peggio Spam Di fronte a noi, di fronte a noi Attenzione ha cominciato a sparare per primo Fortunatamente lo mettiamo al tappeto, ragazzi No, eravamo scarsi Eravamo scarsi d'energia Non mi dovevo buttare così velocemente fuori Però... Ero quasi sicuro di farcela Ciao, canguro Oh, la madonna E che spari a olio Spari colpi pesanti, te Sei uno cazzuto Ci sparano da dietro Ci sparano da dietro Non ce ne siamo mica resi conto che ci sparava da dietro È sempre lui il rompipalle Bella, bella, bella Prima posizione Siamo in prima posizione con 20 uccisioni, ragazzi Questa è la nostra ultima uccisione Ok, 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 ok Bella roba, bella roba Niente ragazzi Adesso ci spariamo subito un altro match Ok, secondo match Ciao, cangu Carichiamo l'arma Approfittiamone che siamo a riparo Uè, è bello Stai attento a quello che fai No L'ho sentito sparare da sinistra Ciao, bello T'è piaciuta la sorpresa, eh? Non te lo aspettavi, eh? Mezz'ora che tu camminavi per arrivare là sopra, eh? No Per poco Sbamma Che salto che hai fatto Oh, ma fregato Ma fregato Ero convinto di metterlo giù lui qua Ero convinto di metterlo giù Sotto chi tocca Oh, 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 oh Ti sei arrabbiato? Ti piacciono i miei proiettili Attenzione Volevo sfruttare la più possibile Quest'arma, ma Non c'è nessuno No, allora funzionano le granate Bomba No, guardate questo Dai, no Il mio pacchetto Dove si trova il pacchetto? Come faccio per arrivare in zona? No, vabbè Forse è quello Se lo fregherà qualcun altro Troppo sicuro Troppo sicuro Vabbè Al diavolo il pacchetto E qua Eccoti qua Non mi disturbare Mentre faccio gli unboxing Che cacchio sta succedendo? Che cacchio sta succedendo qua? Partita terminata ragazzi Non ce l'ho fatta 18 uccisioni Seconda posizione E l'ultima uccisione Non è la nostra Niente Che dire Partita terminata ragazzi Guardate questo Che cacchio ne ha fatto Partita terminata Noi ci vediamo al prossimo appuntamento Mi raccomando Spoliciate se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo al prossimo appuntamento Non mancate Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti